Nonostante la campagna elettorale del centrodestra sia stata tutta incentrata sui punti nascita, in 38 mesi di governo emerge clamorosamente il loro fallimento su un tema preso in carico evidentemente solo per motivi elettorali. La denuncia arriva dai consiglieri regionali di centrosinistra. Su Sulmona non hanno fatto nulla per rispettare quanto previsto dalle dergue per i punti nascita sotto i 500 parti. Ci sono incertezze sugli standard di Pescara e l'Aquila e sui mancati investimenti per gli organici a Pescara e Santomero richiamati dal tavolo e all'appello manca ancora il quadro su Vasto. Avrebbero dovuto mandare appunto al Ministero quelle che erano le integrazioni e cioè i vari adempimenti che dovevano essere fatti sui vari punti nascita della regione Abruzzo. Questo non è mai accaduto, in realtà si sono vantati in campagna elettorale di averlo fatto dicendo che erano salvi i punti nascita ma ad oggi non sono salvi per niente. Faccio l'esempio, quello di Sulmona, purtroppo il punto nascita di Sulmona è ancora fermo. Dovevano attivare l'elisoccorso, non è stato attivato, la stroke unit è ancora ferma per cui purtroppo siamo ancora appesi a un filo di lana, cioè è possibile che la deroga non venga più concessa. Forti anche i dati sull'arruolamento di personale. I lavoratori assunti a tempo determinato passano dai 712 del 2019 ai 1554 del 2020 con una previsione di 2040 del 2021. Scendono progressivamente quelli a tempo indeterminato passati da 13712 del 2019 ai 13659 del 2020 con previsione di arrivare a 13555 per il 2021. Sono stati invece 1391 i contratti cessati nel 2020 e 1486 per il 2021. Manca una strategia virtuosa, dicono i consiglieri, perché si spendono soldi e non si risolve il grosso problema della precarizzazione. Sì, la carenza di personale è incredibile. Su tutti quanti gli ospedali, su tutti quanti i vari reparti, purtroppo vengono fatti avvisi e questi avvisi non vengono assolutamente presi in considerazione perché oramai la nostra sanità e i nostri ospedali non sono funzionali e quindi non sono neanche appetibili.